Buonasera telespettatori di Telequattro, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Il primo segmento della trasmissione di oggi lo abbiamo registrato nei giorni scorsi. E a Trieste fino a domenica in Sarabartoli con uno spettacolo bellissimo che si intitola En attendant Beckett, Glauco Mauri. Glauco Mauri assieme a Roberto Sturno. Mauri è uno dei più grandi attori italiani, uno dei più grandi attori di teatro italiani. L'abbiamo incontrato perché ci parlasse appunto del suo spettacolo all'interno della trasmissione dedicata alla programmazione del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. Ma Mauri è stato così gentile da parlare con noi anche d'altro. Ne è venuta fuori un'intervista lunga appunto una ventina di minuti che abbiamo ritenuto di potervi e di dovervi anche riproporre integralmente all'interno di questa puntata di Trieste in diretta. Può dunque partire dalla regia l'intervista con Glauco Mauri. Glauco Mauri, qual è l'operazione alla base di En attendant Beckett? En attendant Beckett, cerco di essere sintetico, Beckett è stato un autore che insieme a Shakespeare e a Dostoevsky mi hanno formato come uomo. E la cosa di Beckett che amo di più è che parla della vita in tutti i suoi aspetti. Beckett è quello che dice praticamente che la vita, la tragedia del vivere può diventare una farsa. E la farsa del vivere può diventare una tragedia. C'è dove il bello e il brutto, il riso e il pianto, è uno simbolo continuo. O Beckett dice non c'è nulla di più comico dell'infelicità. Più simbolo di questo. Ebbene, in Beckett, anche nei nostri testi che rappresentiamo qui, c'è questo, si passa dal grottesco al comico, alla farsa, al dramma. E dentro c'è anche sempre una grande tenerezza. Tenerezza a volte mi accusano di essere troppo patetico. Diciamo grande pietà. Ecco, la cosa che mi amo in Beckett è la pietà per l'essere umano. Quest'essere umano dove non si può con un taglionetto tagliare la gioia dal dolore, la lacrima dal grido, la tristezza dalla letizia. L'uomo è fatto di questi chiaroscuri. E Beckett cerca di porgerceli tutti con una grande base di pietà. Cioè, io non considero Beckett il drammaturgo del teatro dell'assurdo. No, lo considero un grande poeta che parla della difficoltà del vivere dell'uomo. Lo inserisce in una sorta di continuità con Shakespeare e Dostoevsky per certi aspetti. La pietà è facile da intuire. Sì, no, una cosa che di tutti e tre sono, come i grandi anche greci, Shakespeare non condanna mai nessuno, Dostoevsky non condanna mai nessuno. E così Beckett cercano sempre di capire e di parlare dell'uomo. Cioè anche nel Macbeth, anche nel Riccardo III, c'è un senso alla fine quando Riccardo III sogna i suoi delitti, che ha paura, paura, diventa umano. Dostoevsky mi ha insegnato la grande responsabilità, meravigliosa responsabilità che abbiamo di sapere, di potere comprendere, più che perdonare, comprendere, non giustificare, comprendere la brava. Ecco, Beckett ha questo, ha questo senso di apertura alla vita, anche ai lati più bui o più oscuri della vita, ma sempre con una grande pietà, perché capisce che cos'è il dramma di vivere. È un autore che forse nel nostro paese è molto citato per quanto riguarda i titoli, no? Aspettando Godot è un titolo che anche noi giornalisti saccheggiamo periodicamente per raccontare determinate cose. Penso a giorni felici, finale di partita, eccetera. Forse il pubblico italiano lo conosce meno rispetto ad altri, anche suoi contemporanei. Citando, non ha forse senso un paragone coionesco, ma, insomma, lo si conosce poco da noi. Sì, lo si conosce poco, anzi adesso si conosce poco. Quando io lo, io nel 1961, ho portato sulla scena per la prima volta si atto senza parole, che è l'ultimo nostro decreto, e avevo 31 anni. Ebbene, la prima volta che facevo atto senza parole, allora, si tratta dei puni che scendono, e non parlavo, mi diceva che sei una scimmia, e il pubblico urlava. Mi ricordo una cosa bellissima, fu uno degli spettacoli più interessanti della mia vita. Eravamo a Napoli, dove, fuori grotta, c'è il grande teatro dove facevano una volta i festival della canzone. E mentre facevo proprio uno spettacolo, che è atto senza parole, l'ultimo nostro decreto, in atto senza parole, cominciarono a dire, appunto, che sei una scimmia, parla, non hai voce, sei muta. Allora, e le persone cominciano a ridere. C'era Gian Maria Volonte, che era un mio carissimo amico, e poi c'era la televisione, all'ora che lì vicino. Si alzò indignato e cominciò a urlare. Ma no, finitelo. Un putiferio infinito. Io, se uno dovevo parlare, feci tutto lo spettacolo con la felicità che lo spettacolo provocava questa reazione. Lei però, a 30 anni, aveva già, come dire, capito la potenza di quest'autore. Beh, sì. Io la prima volta che ho conosciuto Beckett attraverso i romanzi. Ma lui ne muore, Molloi, Foranze, ed è stata una grande scoperta. Ma io, nell'immediato dopo quella, perché sono vecchio, e ho passato, nell'immediato dopo quella, avevo cominciato finalmente a leggere i testi che non si trovavano. i primi americani, Sartre, Dostoevsky. E ogni autore mi lasciava, capivo la personalità. Cioè, con Beckett, quando ho cominciato a leggere Beckett, mi dicevo, ah che strano, mi faceva quasi ridere. La pagina dopo dico, ma è terribile questa cosa. Non c'è nulla più comica delle felicità. Dopo tu parli e dicevo, ma guarda che pietà mi fa quest'uomo. E rimasi. Ma perché quest'autore mi dà tutte queste emozioni che non avevo mai provato? Nello stesso libro. Parlando dello stesso personaggio. E questa per me è stata una grande scoperta. Non c'è niente di più comico dell'infelicità. Può sembrare anche, facendo un volo pindarico, forse eccessivo, quasi anche uno slogan di tanta commedia cinematografica italiana. Secondo Nandi Loi, il film più drammatico che sia mai stato fatto è I soliti gnoti. Se andiamo a scarnificare la trama, può essere adattata anche a questo. Lei nella sua carriera ha fatto poco cinema. Sì, poco. Ho lavorato con poco perché... No, mi hanno cercato all'inizio, non so, Moretti, è venuto il suo secondo film, con il motorino, non aveva un soldo, aveva girato a casa su. Dove dire, la Cavani, ho fatto un film in bianco e nero bellissimo, con Lucia Bosè anche, girato a Piacenza nelle case di cura per i malati di mente, di manicomi, insomma. E poi ho lavorato, ho fatto la Cinevicina con Bellocchio, il suo secondo film. E poi ho fatto... Profondo Rosso. Sono più comico. Sono più comico. È un termine che mi si è detto, un lapsus che mi si è... Sono più famoso per Profondo Rosso che per aver fatto 700 repliche del rire, ecco. Però il cinema, devo dire, che non mi ha cercato molto. Qualche volta mi ha cercato e io ho preferito fare teatro. E ho preferito fare teatro perché... E questo non è una lode che mi faccia, una virtù. Non ho mai avuto l'interesse di essere famoso, di essere conosciuto. Mai. Mai. mi sono stato posseduto sempre da un grande... da una grande responsabilità di poter raccontare delle favole di grandi uomini, di grandi poeti dell'umanità e poter essere l'interprete e far capire queste favole agli altri. Ecco. Lei però non ha fatto... non ha fatto molto cinema, però la sua voce e gli intenditori la conoscono. Lei ha doppiato... Ah, ah, sì. Lei ha doppiato Peter Cushing in Guerre Stellari, ma soprattutto lei ancora... Credo che se lei... Ho fatto tre doppiaggi. Quello e poi ho fatto due volte e ho doppiato Ronald Smith. Anzi, tre. I ragazzi venuti dal Brasile e Maratoneta e Sherlock Holmes, una cosa così. Ah, sono 7%. Ma hanno chiamato... Non so perché, hanno detto ma io non ho fatto mai doppiaggio. Eppure mi sono trovato bene... Però se i dentisti ancora quando sentono dire è sicuro... È sicuro, è sicuro. È ancora... Lì mi è molto servito perché io non avevo mai fatto doppiaggio. La prima volta è stata quella di Stellari che di cui non mi ricordo. Di Olivri mi ricordo bene perché ho imparato molte cose come attore. C'è certi gesti che faceva e doppiando con un'attenzione particolare ti accorgi... È stata un'ottima scuola. I nostri doppiatori sono eccezionali. Però quel è sicuro, devo dire la verità, che ancora un po' terrorizza. questo... L'avete fatto... Se si ricorda, l'avete... E l'è venuto subito quel tono particolare? Sì. Non così? Sì, sì, sì. Ma a proposito di perdonare a Beckett volevo dire una cosa... Mi diceva come... Perché amo Beckett, eccetera. Dunque, io ho fatto... Noi abbiamo fatto finale di partita. L'abbiamo fatto a Milano, a Roma con grandissimo successo, inaspettato, grandissimo. E una domenica pomeriggio, una pomeridiana, al Teatro Liseo di Roma e alla fine dello spettacolo c'era tanta gente che veniva in camerino, insolite, molti giovani, eccetera. E l'entrata, l'entrata era ancora con l'accappatoio e vedevo di là della porta due signore vestite non elegantemente, sobriamente, educate. E niente, dico, aspetterà qualcuno. Alla fine di questi ragazzi vanno via tutti, io vado per chiudere la porta e vedo che queste due signore erano ancora lì. Dico, scusi, ma aspettavate me perché non c'erano persone? Sì, ma venite. E mi hanno detto, se guardi, noi non andiamo mai nei camerini degli attori, ci piace molto il teatro, le dobbiamo dire una cosa, che questa sera, questo spettacolo, non abbiamo capito tutto, ma ci sentiamo più ricche, più ricche di umanità, più ricche, ne parleremo tanto, abbiamo capito che si parlava della vita, dei suoi lati belli, dei suoi lati brutti, dei suoi lati comici, non abbiamo capito tutto, ma ci sentiamo così ricche. non poteva esserci, no critica, il risultato migliore di questo. Questo può provocare Beckett. Che cos'è l'ultimo nastro di Crepe? Perché è forse quella, io l'ho vista a Londra, avrei difficoltà a spiegarla. Guardi, è un vecchio, della mia, no, io sono ancora più vecchio di quello, che vive in una specialità, ormai, si sa, da un nastro che lui ascolta, che aveva scritto anche qualche cosa, ma vive solo, però circondato da tante scatole, piene di bobine, registrazioni, che lui ha fatto durante tutta la sua vita. E una sera, prende un librone, su cui ha scritto tutti gli appunti, e decide di ascoltare, dentro la scatola 5, perché sono tutte un'altra scatola di cartone, cartone, la bobina numero 3, e comincia a leggere questa bobina, e in questa bobina, improvvisamente, tra le tante altre cose, di cui non si ricorda, c'è una scena d'amore, di cui lui non si ricordava, una cosa che aveva perduto, e allora si mette lì, e alla fine, quando termina il nastro, c'è questa, questa desolazione per le cose, che a volte apriamo a portate di mano, e non ce ne andiamo conto. Naturalmente, questo nastro, questa registrazione è la mia voce, e allora, io che ho fatto, come dico sempre, la quantità, non depone a favore della qualità, ho fatto tanti personaggi, anche molto importanti, e quindi che mi hanno dato delle grandi emozioni, però, io ormai questo, me lo porto dietro, questo nastro, dal 61, ogni tanto, mi capita di fare, quando il vecchio, ormai 89enne Glauco, sente il suo giovane Glauco, di 31 anni, e beh c'è un misto, una comunione, tra giovinezza e vecchiaia, che è di una poesia incredibile. Beh posso immaginare, posso immaginare, e se andà, un autore come Beckett, consente a chi lo interpreta, di prendersi delle libertà, posto che, sotto certi aspetti, ogni attore si prende forse, delle libertà, eccetera, ma... Sì, ci chiamiamo interpreti, per questo, perché diceva, Meyerhold, una cosa bellissima, per rispettare un testo, bisogna interpretarlo, questo è il modo di rispettare, poi bisogna vedere, come lo si interpreta, non è che dà molte cose, come libertà superficiali, di interpretazione, ma ti dà molte cose, ti dà molti semi, da cui tu puoi far germogliare tanti fiori, sì, ti dà tante possibilità umane, ma tecnicamente, è difficile spostarsi, però ti dà tante possibilità umane. Lei ha detto, questo mi incuriosisce molto, è la prima volta che faccio questa domanda, ad un interprete, una carriera lunga come la sua, è fatta di tanti incontri, di tante collaborazioni, io poi dopo, se abbiamo tempo, le chiederò anche, quella con la Moriconi ed Enrico, però penso anche che poi, una carriera lunga, sia fatta anche di tanti incontri mancati, per le ragioni le più varie, insomma, magari una indisponibilità, eccetera, a livello cinematografico. Dunque, vorrei, sì, ho capito, prima arrivo alla sua domanda, vorrei dire che questa compagnia, si chiama Mauri Sturno, perché noi abbiamo fondato questa compagnia, nel 1981, sono 38 anni, sono più vecchie compagnia privata, gestita solo da attori, questo voglio dire, la collaborazione con Roberto, le occasioni mancate, c'è un'occasione che mi ha discusso molto, non poter recitare, accanto a Ruggero Ruggeri, che è morto l'anno prima, che uscissi dall'Accademia, parlo del 51, del 49, mi ricordo, e poi di occasioni mancate, come personaggi, sì, tanti, non fate tanti, no, le occasioni mancate nella vita, mi dispiace, di averne perse alcune, di cui magari non sto, averne perse, a volte pigrizia, pigrizia del cuore, e anche della mente, penso che Beckett, però stiamo parlando di Beckett, dice che la parola più importante per lui, è la parola forse, e infatti, anche qui nel nostro testo, la parola forse è ripetuta tante volte, forse non vuol dire che cosa, non vuol dire sì, non vuol dire no, non vuol dire mai, non vuol dire sempre, spesso si sente dire, anche nell'ultimo nostro caso, quando la felicità era forse ancora possibile, sente questa forse, ma non l'ho goduta, e la parola forse, io trovo che sia una sottolineatura umana molto bella. Sì, anche nel, poi soprattutto nel mestiere del giornalista, noi ringraziamo, dovremmo ringraziare ogni giorno il creatore, per aver inventato gli avverbi, perché ci aiutano molto, come per risolvere delle situazioni, però forse, sì, poi in inglese, may be, ha anche varie, sì, sì, perhaps, ha anche varie declinazioni, probabilmente, quindi è molto curioso. Bicelamo Moriconi e Enriquez, come? È stata la compagnia dei quattro, è stata una delle cose, delle esperienze più belle della mia vita, basta pensare, rispettacoli che avevano, erano poverissime, poverissime, e lì ricordo una cosa bellissima, con Valeria, ho fatto, adesso non mi ricordo, la Dolo Candiera, il mercato di Venezia, Rosalinda, tante cose, ma la cosa più interessante, era che facevamo noi il rinoceronte, per la prima volta in Italia, con Valeria, la regia di Enrique, scende dei manuali riluzzati, e noi abbiamo invitato Ionesco, Ionesco venne, una domenica, lo tiravamo su dalla platea, io ero, si affezionò a noi, e veniva tutte le sere, con quella moglie piccolina, che veniva a cena con noi, però beveva, lei non voleva, ma era una cosa bellissima, a un certo punto, io avevo sempre un, non un copione, un piccolo libretto, perché non avevamo i copioni, del rinoceronte, su cui avevamo, ho studiato i tagli, una sera mi viene e dice, senti, posso prendere il tuo copione, per una sera, perché avete fatto, nel terzo atto, dei tagli bellissimi, che io non ce l'avevo pensato, ah, la sera dopo mi riporto il copione, e passa, un mese, due dopo, io non avevo portato il copione, passa un amico mio, era in un teatro, un teatrino lì, nelle città con le mura, lì nel Veneto, e mi dice, ma che bello, che cosa, come la dedica che ti ha fatto Ionesco, qual è la dedica che mi ha fatto? Apro, una delle dediche più incredibili, in cui Ionesco, con una caricografia anche concellando, mi ringraziava, per avergli fatto capire il suo personaggio, come nessun altro l'aveva fatto capire, la sua riconoscenza profonda, non mi aveva detto nulla, questo è Ionesco. Il copione per l'attore, che cos'è? Eh beh, sì, è una cosa importante, perché poi ogni attore ha una memoria anche visiva, ad esempio, se uno studia su un copione, gli cambia il copione, ci sono certe cose, oddio come, no, è la fondopagina questa cosa, il copione è il diario, è il diario della tua interpretazione, voglio dire, io lo segno molto, lo segno, poi naturalmente lo si dimentica, ma è sempre in camerino con me, sempre, tutti gli attori tengono, perché anche la centesima replica, oddio, non mi ricordo, dicevano che, non mi ricordo chi, aveva preso in mano uno dei copioni di Sara Ferrati, dove c'erano delle annotazioni, e da un certo punto, vicino a una battuta, c'era scritto applauso, risata, eccetera, poi non so dopo se questo corrispondeva, ma forse... una grandissima attrice, non sono mai lavorato, grandissima volta, ma beh, tutte le storie che sono... Quelle storie di prima, insomma... E un po' si diceva, qui viene l'applauso, qui viene la risata, c'è un modo un po' diverso, si è più liberi, si è più sciolti, poi c'è quello che tutte le serie è uguale, io invece vorrei far capire che il pubblico interpreta con l'attore, voglio dire, a secondo della sensibilità del pubblico, la tua interpretazione può germogliare o può rimanere inerte. E a questo punto, per l'attore l'applauso che cosa significa? Conta più il silenzio, per me conta più il silenzio di gente che lì è disposta a sentire, ad ascoltare, l'applauso è bello, ma è facile prendere l'applauso, a prendere l'applauso c'è l'aperto, ci vuol poco, metti sotto la musica, metti una battuta, così, non contano nulla, conta un silenzio, che tu entri e senti, ma so sentire me, è quello che conta. Parliamo di Shakespeare un attimo, visto che Lorenzo Livier che sosteneva che Amleto fosse la miglior cosa mai scritta, nella sua autobiografia, dice, è inutile girarci attorno, è la miglior cosa che sia mai stata scritta. Non le chiedo tanto se è d'accordo o meno, ma perché Shakespeare sarà, in ogni caso, sempre un nostro contemporaneo, assieme a pochi altri autori? Perché è un genio, è come... È il nostro contemporaneo perché lui è come un pittore che ha sulla tavolozza tutti i colori, tutti li ha, poi li mescola, di volta in volta, e vengono dei colori fuori, nuovi, mescolando non solo il giallo, il verde, ma... È perché era un... E poi era un uomo di teatro, gli uomini di teatro hanno delle antenne particolari per far liberare le antenne e captare cosa succede intorno a te. Il suo Shakespeare favorito qual è? Il Macbeth. Ah. Però io annuncio adesso, il prossimo anno, anche io farò per l'ultimo, per la terza volta, anche l'ultimo, il Reliero. Perché il Reliero è un dramma non di un uomo, ma dell'uomo. e poi è il dramma anche della vecchiaia dolorosa, che magari le gambe non reggono, ma il cervello comincia a capire le cose che in gioventù non capivi. E addirittura ci vuole anche una follia divina, uno che ti fa scattare. Il Reliero è proprio un uomo, all'inizio quello è detestabile, che dice le figlie che mi ama di più, e che a poco a poco attraverso la follia diventa saggio, diventa uomo. Ultimamente lo ha fatto anche Glenda Jackson, con quelle operazioni un po' particolari, dicono che è stato un ritorno trionfale in scena. Tornando ancora, giusto un attimo, a Beckett, dopo la lascio, noi conosciamo appunto i testi più noti, sono forse, forse aspettando Godot, è al limite finale di partita. Che poi lavoro assoluto, assoluto. e io ho fatto tanti atti unici, ne ho fatti tredici, quattordici, e ho assemblato dal silenzio a silenzio, senza voce, tra le voci, richiuse con me, e mettevo insieme quei quattro, cinque, sei atti unici, ne ho fatti tanti, tredici mi sembra, tra cui alcuni stupendi che non si possono fare, perché sono non troppo difficili, come quella volta, si vede solo una faccia con tre altoparlanti e si sente lui che parla, quella volta, quando era bambino, sono dei testi che quasi nessuno rappresenta, perché vediamo anche qui, voglio dire, la povertà di gente che viene, non ho mai recitato con così poca gente, perché forse è difficile andare a andare aspettando, a notte da becchiette, poi per carità, degli applausi che diciamo basta, finita per carità, colorosissimi, un certo enorme, ma insomma, io faccio di tutto perché anche Becchia sia conosciuto. E credo che meriti quantomeno anche per rendere omaggio ad un grande attore, è una persona molto gentile perché solo poter parlare con lei è veramente un dono per quanto, no, 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 non creda, chiudiamo in bellezza la trasmissione. Grazie a Glauco Mauri per essere stato con noi. Grazie a voi e speriamo di rivederci a Trieste. Seconda parte di questa puntata particolare di Trieste in diretta, adesso siamo effettivamente in diretta, sono le 17.59 e sono le 18.00 in questo momento. Allora, oggi è venerdì quindi poi ci vedremo anche con Starbene in TV durante il programma, parleremo di una nuova realtà dell'ASU, neanche tanto nuova per dire la verità, cioè la struttura complessa di fisica sanitaria. Nella prima parte, che poi in realtà è la seconda, tenuto conto di quella di prima registrata e sarebbe contento Beckett di questi giochi di parole, siamo in compagnia di Don Andrea De Stradi, che è il direttore della pastorale vocazionale della Diocesi, con il quale parliamo di una serie di appuntamenti, di una serie di iniziative che sono in programma a questo fine settimana, a partire già da questa sera, poi dovrebbe raggiungersi anche, adesso mi sono scordato il nome, tanto per Don Luca Peiron, che è un sacerdote che vive a Torino e che ha una storia anche molto particolare, proprio una storia vocazionale molto particolare e quando poi arriva gliela chiederemo. Intanto Don Andrea, chiariamo subito una cosa perché è sempre motivo di dibattere, cioè quando noi parliamo di vocazioni non parliamo solo ed esclusivamente della vocazione al sacerdozio, le vocazioni sono tante, sono parecchie, nell'immaginario collettivo, vuoi anche per una semplificazione giornalistica si pensa sempre al sacerdote quando si parla di vocazioni. Sì, purtroppo sì, tanto buonasera a tutti coloro che ci guardano in diretta come Umberto ci ha ricordato. Sì, è sempre una semplificazione e direi che in modo particolare dopo il sinodo che si è celebrato a Roma nell'ottobre scorso dal titolo dei giovani la fede e il discernimento vocazionale con l'esortazione apostolica che ne è uscita la Christus vivit direi che il Papa ha messo una parola fine su questo equivoco quindi anche voi giornalisti fareste bene ecco perché in realtà quando si parla di vocazione si parla almeno di tre appuntamenti nel corso della vita quindi la prima vocazione è la chiamata alla vita già che io non ho trovato ancora nessuno che abbia fatto domanda per venire a questo mondo la vita è un dono al quale siamo stati chiamati un dono che ci siamo trovati un po' fra le mani poi c'è la chiamata al battesimo quindi la vita cristiana anche questo è un dono che ci è stato fatto ecco o un dono che magari da adulti abbiamo riconosciuto rinnovato se non addirittura oggi come oggi anche tanti ricevono il battesimo da adulti e poi c'è quella vocazione particolare qui il Papa ci ricorda le principali vocazioni la prima fra tutto il matrimonio poi il sacerdozio la vita consacrata nelle sue molteplici forme quindi mi verrebbe da dire che le vocazioni sono milioni di milioni parafrasando una pubblicità di un salume di qualche anno fa insomma ecco ma poi il Papa comprende il Papa e la Chiesa insomma comprendono all'interno della parola vocazione anche alcune professioni particolari insomma io penso anche quello del giornalista sia un po' una vocazione ecco no poi in tempi di fake news oggi bisognerebbe un po' rinnovare questa non tiratemi fuori non giro e ecco per cui veramente ampia la gamma di vocazioni questa proprio poi ci sono anche le provocazioni ma questa è un'altra sono anche le provocazioni alcune vale la pena di raccogliere altre meno insomma questo è un altro questo è un altro discorso nel nostro col nostro con la nostra professione abbiamo più a che fare forse con le provocazioni eh sì oggi come oggi oppure qualcuno potrebbe anche dire che la provocazione è un ottimo alibi per spararle le più grosse ma questo lo dico io per l'amor di Dio mi prendo tutta la responsabilità allora dicevamo che ci sono delle iniziative che iniziano già stasera sì già questa sera beh intanto diciamo che siamo nell'ambito della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni la giornata numero 56 quindi 56 anni fa la chiesa ha cominciato a dedicare una giornata all'anno sempre nella quarta domenica di Pasqua quindi questo è il motivo per cui siamo qua oggi sono qui oggi a parlarne e e ogni diocesi un po' si organizza insomma per valorizzare questa giornata no? noi abbiamo tre appuntamenti il primo questa sera con una veglia di preghiera la quale vorrei invitarvi alle 20 e 30 nella chiesa di Maria Regina del Mondo in via Carsia quindi siamo a Opicina sì e la particolarità sarà la veglia sarà presieduta dall'arcivescovo e la particolarità di questa veglia è che comincerà nella chiesa di Maria Regina del Mondo e poi a un certo punto cammineremo verso la chiesa di San Bartolomeo nell'altra parte di Opicina quindi nella chiesa dove si incontra e prega la comunità slovena quindi sarà una veglia di preghiera bilingue per mettere in evidenza le due anime un po' della nostra chiesa di Ocesano quella italiana e quella slovena e domani pomeriggio è per questo che adesso stiamo aspettando Don Luca che sta arrivando da Torino proprio qualche minuto fa con il treno e lui ci parlerà di un argomento che lui segue pure in modo particolare che è il tema di quella che lui chiama dando il titolo anche al suo libro l'incarnazione digitale quindi come tutte queste nuove tecnologie stanno modificando il nostro essere uomini quindi un argomento molto interessante tra l'altro sottolineato in modo particolare anche nel corso del sinodo sui giovani perché chiaramente i giovani nativi digitali sono quelli che più chiaramente noi forse con qualche anno in più sul Gruppone facciamo un po' più fatica sicuramente siamo ancora dell'era del Nokia 3310 ecco quello indistruttibile ci parlerà domani pomeriggio di questo argomento e per questo che l'ho invitato questo dove Don Andrea questo appuntamento domani pomeriggio alle 15 sarà molto interessante io credo a Opicina nella sala teatro del Prosvetni Dom in via nazionale 51 ok ecco è una grande una sala avete scelto se posso per essere una curiosità Opicina ma perché ogni anno io sono direttore della pastorale vocazionale da 8 anni ormai 9 e così in comunione con il Vescovo abbiamo pensato che potesse essere simpatico andare ogni anno in una zona diversa della diocesi coinvolgendo le diverse comunità insomma e quest'anno abbiamo pensato Opicina e poi terzo appuntamento domenica tutta la giornata cercheremo di dedicarci un po' ai ragazzi ai ragazzi delle medie in modo particolare con una festa una giornata così di giochi la mattina giochi che però avranno come sarà un grande gioco dell'oca capito però le varie tappe avranno a che fare con delle testimonianze di due giovani della nostra diocesi che nella semplicità della loro vita quotidiana svolgono un servizio come animatori educatori catechisti quindi sarà interessante questo sarà questo sempre Opicina domenica mattina dalle nove in poi nella parrocchia di Maria Regina del Mondo la giornata poi si concluderà il pomeriggio con la messa alle ore 16 celebrata dall'arcivesco durante la quale come sempre come ogni anno ormai facciamo ricorderemo alcuni anniversari vocazionali particolari e così metteremo anche i ragazzi davanti alle testimonianze di vita di religiose di religiosi sacerdoti che vivono nella nostra chiesa diocesana alle volte quasi invisibili ecco però ogni giorno con tanta fedeltà tanto amore si dedicano al prossimo c'è anche questo c'è anche questo aspetto effettivamente nel senso adesso non voglio fare un paragone che può sembrare irriverente però in queste settimane da un punto di vista particolare mi sono occupato del teatro verdi e noi non abbiamo idea di tutto quello che di tutte le persone soprattutto che lavorano dietro le quinte immagino per qualunque tipo di attività c'è un front office si potrebbe dire che magari potrebbe essere rappresentato dal parroco della chiesa dal parroco direi soprattutto in alcune funzioni visibili la celebrazione della messa la liturgia o qualche incontro qualche riunione però tanto della vita dei consacrati si svolge nel backstage non dico nell'ombra perché è brutto però nel backstage ecco è fatto di tanto ascolto di tanti incontri di tante persone ecco tante cose per lo più invisibili ma che danno vita poi e danno senso a quello che poi succede magari durante la liturgia come si questo poi la chiediamo anche a 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 come si usiamo il termine coltiva la propria la propria vocazione perché immagino che adesso non sempre si è immediatamente pronti non sempre si per tutto per tutta una serie per tutta una serie di ragioni molto probabilmente contingenti e lì la chiamata voglio dire necessita di una risposta immediata alcune alcune magari no però bisogna immagino tenere sempre diciamo che c'è una risposta a un certo punto una risposta deve diventare un po' puntuale deve esserci un sì che crea un discrimine tra un prima e un dopo ecco che questo sì ti renda pronto a tutto quello che succederà dopo no nel senso che io direi che c'è bisogno di rimanere sempre in ascolto ecco in ascolto di se stessi e in ascolto anche del Signore che parla in modo molto concreto per chi lo ascolta nel Vangelo nella vita quotidiana di tutti i giorni ecco no se io guardo io sono prete da 15 anni se io guardo la mia esperienza da prete oggi quello che ero il giorno che sono stato ordinato ci assomigliamo a molto poco ecco no ah beh sì si cambia si cresce si matura spero si maturi ecco no per cui c'è una progressione anche nella vocazione non è come un lavoro rutinario tutti i giorni ecco è sempre un nuovo adesso non voglio entrare nel 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 personale eccetera poi se credi puoi rispondere in un modo anche è una scelta difficile da comunicare a casa ma guarda anche là è logico che dipende dalle famiglie dipende molto dalle famiglie ma più che dalle famiglie dalle singole persone perché io ho visto vocazioni nate in famiglie cattoliche che non ne hanno voluto sapere proprio come anche vocazioni nate in famiglie così non particolarmente praticanti che invece sono state accolte con più con più con più generosità ecco per dire no nel mio caso nella mia famiglia io sono figlio unico mio padre quando gli ho detto vado in seminario mi ha detto io davanti al prete mi sono sposato ho detto che avrei lasciato i miei figli liberi di scegliere la loro strada e così faccio mia mamma ha fatto un po' più di fatica ecco a cogliere questo però poi ha visto che ero contento sono contento ed è contenta anche lei io avevo parlato una volta addirittura con un ragazzo che stava studiando eccetera e mi ricordo che mi disse è stato più difficile dirlo ai miei fratelli che non ai miei genitori eh posso immaginare sì posso immaginare che possa essere che possa essere così sì immagino poi adesso quando una ragazza decide di diventare suora forse l'hai ancora peggio sotto certi aspetti lì forse è ancora più complicato difatti le vocazioni femminili sono una grande risorsa ecco Don Luca perfetto quindi ci siamo ciao ben arrivato buonasera grazie allora abbiamo anche Don Luca Don Luca Peron chiudiamo la domanda poi dopo mi attacco subito così lo facciamo un po' prendere confidenza con lo studio eh le vocazioni femminili dicevo sì sono un'altra tematica interessante anche perché quando si entra nel mondo delle vocazioni femminili veramente lì forse non ai più non ci si rende conto ma è un universo è un universo perché ci sono le monache ci sono le suore di vita attiva le cosiddette suore laiche che non esistono in realtà però nella percezione così che sono gli ordini gli istitui secolari per cui veramente è un ambito molto molto ampio e anche là noi giornalisti in genere ah fate di quei disastri generosissimi sì sì proprio col trattore sì effettivamente delle volte convertitevi convertitevi dovremmo farlo allora Don Luca grazie intanto per essere venuto a trovarci lei arriva direttamente da Torino in questo istante perfetto quindi significa che i treni arrivano arrivano in orario ogni tanto qualcuno ci azzecca noi prima facevo facevo riferimento nella domanda che ho fatto a Don Andrea a una sua intervista che è apparsa credo qualche settimana no quante settimane su Vita Nuova dove lei raccontava del momento in cui ha comunicato alla sua famiglia la decisione di entrare in seminario oltretutto se non ricordo male a un'età più come si dice più adulta di quello che si può una vocazione adultera sì una vocazione adulta non fa vedete che poi io non ho detto niente sono loro tu cerchi di essere serio e noi se vuoi i discoli comunque è una decisione difficile da comunicare a un'età avanzata ancora di più o no? l'età avanzata erano 28 anni quindi non ne ne pensiamo tantissimi di più non so se è più difficile o più facile io ho una tradizione di famiglia strana perché io sono l'ottavo prete in famiglia io ho uno zio un pro zio eccetera eccetera andiamo indietro di otto generazioni di sette io sono l'ottavo quindi non era una cosa del tutto insolita rispetto alla mia famiglia da parte di padre ma anche da parte di madre c'erano dei preti in famiglia quindi non è tanto il fatto insolito rispetto a una tradizione diversa nel mio caso la mia è una famiglia cattolica quindi non era un'opzione del tutto impossibile la difficoltà credo venga nel momento in cui per loro ma forse anche un po' per me è stato un fulmine a ciel seno perché fino a quel momento insomma io ho una vita professionale una fidanzata la vita normale di chiunque quindi una vita di fede ma normalissima la messa la domenica ecco non ho fatto un giorno d'oratorio tanto per dire e poi quando diventa evidente che il Signore ti chiede una cosa o smetti di credere o gli dici di sì c'è un passo del Vangelo che non riesco a farmelo spiegare bene per dire la verità non so se forse io ho delle difficoltà perché insomma ed è il io insomma me lo me lo racconto come il il brano del vestito cioè quando dice tu devi sempre avere il vestito pronto per 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 l'occasione in cui verrai chiamato eccetera io l'ho ridotta così adesso sono io il discolo veramente io e qualche cosa può applicarsi anche la vocazione questo o non necessariamente mi fa sorridere perché quando è mancato mio padre qualche anno fa mia nipote aveva 4 anni e le chiediamo mia sorella le chiede se vuol vedere papà il suo nonno nella cassa prima che venisse chiusa lei dice di sì mia sorella le spiega ecco vedi il nonno qui però e mia nipote è arrabbiatissima se la prende con mia sorella dice ma mamma avete sbagliato tutto ma perché Cristina perché avete vestito il nonno siccome mio padre era malato da anni lei l'ha sempre non ha mai visto giacca e cravatta allora punto ma no vedi la giacca la cravatta ma non è la giacca la cravatta mamma dovevate lasciarlo nudo ma Cristina perché scusa quando tu mamma era già un po' arrabbiata mamma ma non mi avete detto che il nonno va a una festa che stare con Gesù una festa sì Cristina e allora dovevate lasciarlo nudo ma Cristina quando tu vai a una festa vai col vestitino mica vai nuda mamma ma la festa non è con Gesù sì e allora il vestito glielo regala lui va a quattro anni lo spirito santo funziona mia nipote non è una santa Massimo ha fatto il citofono per un po' però questo credo che sia la più bella esegesi di quel brano biblico effettivamente che mi è capitato di vivere in effetti la vocazione è questo è il vestito giusto per te nel momento in cui è il signore che te lo dà non puoi che essere bello ed elegante come meglio saresti adesso l'ho capita un po' un po' di più insomma così non so perché era sempre lo dirò a Cristina sì 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 dica che c'è un giornalista di Trieste che la ringrazia quanti anni ha adesso? adesso ne ha nove allora dunque Don Luca domani no? domani pomeriggio domani pomeriggio alle 15 alle 15 sempre su a Cristina a Cristina presenta questo suo questo suo libro no sì parla di incarnazione digitale è l'incarnazione digitale che è l'aggettivo digitale è l'aggettivo che probabilmente caratterizza i nostri i nostri tempi non si capisce se nel bene se nel bene o nel male anche in questo caso tutto dipende da come da come lo si adopera da chi lo adopera e anche però da chi poi ne usufruisce in qualche modo sì la rivoluzione digitale è qualcosa che ha cambiato sta cambiando e cambierà verosimilmente il mondo così come lo conosciamo e forse anche il modo di comprendere l'essere umano e del comprendersi dell'essere umano incarnazione digitale è questo libro che è edito da LDC di fatto è un po' la sintesi di un primo momento di studio che ho un po' portato avanti io insegno teologia dell'innovazione in cattolica a Milano e da quest'anno spiritualità dell'innovazione a economia alla statale a Torino e quindi era un modo un po' per mettere nero su bianco le cose che andavo pensando e quelle che ho condiviso con i miei studenti il titolo incarnazione digitale forse racconta un po' il significato del tutto cioè in questo tempo anche in questo tempo siamo chiamati a farci portatori di una parola che non ci appartiene che ci precede che ci accompagna che però ci chiede di essere appunto incarnata e ci chiede di essere aperti a far sì che questa parola si incarni in questo tempo questo tempo appunto che è digitale fondamentalmente credo che due siano le grandi direttrici di pensiero che possono accompagnarci rispetto a questi temi il primo è che la digitalizzazione in sé è una cosa che ha un suo senso oltre che essere forse inarrestabile però la digitalizzazione non significa digitismo o digitalismo cioè non dobbiamo pensare che la rivoluzione digitale sia uno strumento di salvezza la salvezza è ancora saldamente in mano all'unico salvatore e quindi è uno strumento una serie di strumenti o anche una postura esistenziale che possono essere utili all'essere umano ma nel momento in cui l'essere umano continua a governare nel senso e non pensando che attraverso questi strumenti l'essere umano possa andare al di là di quello che egli è non è un modo per superare un limite altrimenti invalicabile la seconda grande direttrice di pensiero che mi sembra interessante è proprio questa cioè mantenere la nostra cattolicità quindi let il tenere insieme come in Gesù l'umano e il divino così nel digitale nel mondo digitalizzato dobbiamo continuare a tenere insieme la tecnologia e ciò che è prevalentemente ed esclusivamente umano nella misura in cui le due situazioni le due questioni restano in una tensione salutare potremmo giovare di tutto quello che questo significa ma nello stesso tempo non perderemo quello che effettivamente siamo il senso di chi siamo quella della digitalizzazione è una rivoluzione sotto certi aspetti ed è una rivoluzione che per altri versi noi stiamo stiamo ancora vivendo nel senso che probabilmente sarà qualche cosa con la quale avremo a che fare per parecchio tempo si può quasi parlare di una rivoluzione che di per sé sarà sempre incompiuta oppure arriveremo ad un momento in cui qualcuno dirà basta intanto è una rivoluzione che non è esterna a noi nel senso che noi tendiamo a oggettivare qualcosa che invece ci appartiene cioè la tecnologia è un frutto dell'umano non è qualcosa che ci è imposto non sono sbarcati i marziani e ci hanno dato degli strumenti o altro quindi è un frutto dell'ingegno umano come è sempre stato qualunque artefatto tecnologico quindi ci apparterrà sempre come sempre ci è appartenuto banalmente la scrittura non è naturale la scrittura è qualcosa di artificiale eppure ci connota in maniera determinata quindi sicuramente è un percorso che non faremo a ritroso ma non avrebbe senso farlo a ritroso è una rivoluzione questo sì che segna un cambiamento d'epoca adesso non saprei dire se ne è la causa o se semplicemente si affaccia in questo cambiamento d'epoca quello di cui sono convinto è che ci restituisce il bisogno dell'intergenerazionalità i nativi digitali sanno stare in quest'epoca non hanno forse la capacità di starci col giudizio che un analogico ha ma che gli deriva forse dai capelli bianchi ecco credo che questo sia un tempo in cui un tempo favorevole in cui le generazioni si possono incontrare perché le une le hanno da dire alle altre a vicenda quindi non è uno sporgersi grazioso dei giovani verso i vecchi o dei vecchi verso i giovani ma è uno stare insieme in questa realtà in modo che sia casa comune ma questo è tanto vero e si riallaccia ad un discorso che facevamo ieri credo con un con un maestro elementare proprio sulla su un certo fascino che alcune cose del passato esercitano ancora nei confronti dei ragazzi se queste cose glieli spieghiamo in un determinato modo se glieli facciamo conoscere nel modo nel modo più giusto insomma potrebbe essere il libro piuttosto che l'ebook potrebbe essere adesso qua parlo un po' prodomomea potrebbe essere un vecchio feneggiato televisivo invece dell'ultima puntata della prossima puntata del trono di spade tra una cosa tra una cosa e l'altra insomma sì la differenza fondamentale però rispetto al passato non è semplicemente una capacità di essere più performanti o uno strumento diverso con cui si fa quello che si è sempre fatto differenza fondamentale tra digitale e analogico che il digitale presuppone nell'esistenza di un codice e solo se sei proprietario del codice diventi capace di assumere quelle determinate informazioni la questione del codice è determinante perché chi possiede il codice chi decide il codice pensiamo ai bambini non lei prima citava appunto i più piccoli io credo che per esempio sarebbe importante che oltre alla grammatica e alla sintassi fossero capaci non dico a programmare ma a capire come si sta per esempio nella realtà digitale altrimenti sono condannati a usare delle piattaforme che qualcun altro ha deciso per loro e questo chiude la nostra libertà soprattutto se pensiamo che queste piattaforme sono gestite da soggetti privati che sono perfettamente legittimati a esserci però che ci costringono a decidere a scegliere a condividere a pensare come loro decidono peggio ancora ti inducono a pensare che tu stai scegliendo qualche cosa e in realtà scegli qualche cosa che sudoramente ti viene fatta scegliere in qualche modo sì questo è sicuramente un aspetto credo che l'altro aspetto importante e fondamentale sia evitare la delega in bianco non soltanto rispetto alle piattaforme pensiamo all'intelligenza artificiale al di là del fatto che chiamarla intelligenza rapportandola alla nostra è risibile ma sicuramente è vero che l'intelligenza artificiale fa già parte del nostro mondo e decide già una serie di cose che ci riguardano la cosa paradossale è che noi siamo un po' abituati a pensare che un programma informatico sia sostanzialmente come il treno che mi ha portato fino qua per cui non è che possiamo andare molto lontano da dove il programmatore ha deciso che sia e questo non è più così oggi gli algoritmi non sappiamo di fatto come arrivano i risultati che ottengono questo ci dice non che saremo governati dalle macchine quindi non ci fa paura Terminator o altri film di fantascienza però è vero che appaltare ad altro che non sia l'essere umano ma un'intelligenza computazionale quindi che banalmente non è capace di empatia e di misericordia troppo di noi significa forse da una parte dimenticarci di esercitare noi questa capacità e dall'altra far sì che sia una macchina esercitarla io preferisco ancora che sia un uomo fallibile a decidere alcune cose peraltro sono ben contento che sia una macchina che decida gli scambi del treno che mi ha portato qua la macchina su questo sbaglia di meno sbaglia 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 meno Don Andrea qualcuno solo chi anche in questo caso solo chi ragiona per stereotipi potrebbe pensare che di questo tipo di argomenti la chiesa non si occupi no? Beh sì direi che solo chi ragiona per stereotipi di una chiesa che fa parte del passato come una specie di reliquia muffita può pensare così ecco in realtà io che la chiesa la vivo abbastanza da lì dentro e non solamente qui nella diocesi ma anche in altri in altri ambiti vedo come non solamente sia necessario ma sia doveroso interrogarsi ecco su questi ambiti tutto ciò che è umano tutto ciò che ha a che fare con la nostra umanità no? è il luogo che attende un annuncio ma che anche desidera un annuncio e quindi devo capire devo stare ecco no? mi colpiva leggendo ascoltando il Vangelo due domeniche fa Gesù che nella paura dei discepoli degli apostoli chiusi nel cenacolo ecco viene e sta viene e sta e credo che questo atteggiamento di stare ecco sia proprio dei discepoli del Signore anche nel 2019 ecco in quelle che sono le paure e i desideri adesso devo fare una domanda un po' un po' banale ma insomma delle volte siamo siamo anche tenuti tenuti a questo Torino è una città che fra l'altro io l'ho visitata ci sono stato un po' di due anni fa è una città che architettonicamente in qualche caso ha molto di Trieste insomma quando c'è una si percepisce ci manca il mare vi manca il mare sì questo insomma quello ce lo teniamo noi insomma però voglio dire è una città molto molto più grande è una città molto complicata eccetera i giornali raccontano di una realtà particolarmente complessa eccetera posto che non credo che una città sia più complessa di un'altra a seconda del numero degli abitanti eccetera perché insomma sappiamo che non è che non è così è una città davvero comunque complicata come come ce la raccontano? è una città complessa non è una città complicata è una città complessa con tante complessità differenti è una città che intanto è una città che vive l'Italia in un unico territorio un po' l'immigrazione dovuta alla Fiat un po' l'immigrazione dovuta a tante situazioni e contingenze storiche oggi anche l'immigrazione io mi occupo di pastoral universitaria anche dovuta agli studenti a Torino ci sono 115.000 studenti universitari un'altra città un'altra città e 36.000 di loro sono fuori sede a Politecnico di Torino c'è più del 60% di studenti fuori sede di 82 nazioni diverse questo fa di Torino un laboratorio sicuramente sì un laboratorio umano un laboratorio esistenziale anche un laboratorio rispetto alla fede e all'annuncio della fede è una città in cui ci sono sempre state tensioni ideologiche fortissime pensiamo al comunismo quello hard pensiamo al potere che la massoneria ha sempre avuto Cavour l'ha importata prima di tutto Torino e poi la presenza del cattolicesimo il cattolicesimo sociale i santi sociali ma non soltanto loro quindi è una città complessa con tutta la bellezza della città questo significa che però per starci dentro e anche per annunciare il Vangelo non dobbiamo essere semplicisti prima Andrea citava un passo del Vangelo cito quello della domenica successiva in qualche modo credo che in una fluidità e in quella liquidità sia importante avere qualcuno che ci ha camminato sulle acque allora io ringrazio Don Andrea Destradi e Don Luca Peron per essere stati con noi ricordatevi rapidamente dai Don Andrea i tre appuntamenti di stasera domani e domenica questa sera 20 e 30 nella parrocchia di Maria Regina del Mondo la veglia vocazionale domani pomeriggio alle ore 15 sempre a piccina al prosvetteni dom via nazionale 51 l'incontro con Don Luca e domenica pomeriggio alle 16 la messa con l'arcivesco sempre a piccina Maria Regina del Mondo grazie ai nostri ospiti adesso ci fermiamo per la pubblicità dopo scatta l'appuntamento del venerdì con Star Bene in TV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.